Oggi dedichiamo i nostri 90 secondi di approfondimento a una bella storia per le Marche per l'Italia. 12 febbraio, segniamoci questa data, sarà la data in cui verranno consegnati i lavori per l'apertura della Galleria della Guinza e per l'itinerario europeo che collega Fano con Grosseto. La Galleria della Guinza, un'opera chiave non solo per collegare i nostri mari, l'Adriatico e il Tirreno, ma un tassello fondamentale nei corridoi europei di trasporto che collegano la Turchia e i Balcani col porto di Ancona e i porti della penisola eberica. Di questo collegamento tra il porto di Livorno e il porto di Ancona non solo parlava, ma già progettava Napoleone nel 1806 e questo collegamento attraversava proprio il comune di Mercatello sul Metauro per arrivare a Fano e poi scendere fin verso Ancona.